buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo killer video siamo qua a fare un piccolo co alla bici e poi si parte verso la salita di ps3 come sempre bananina al top ciao ragazzo ci vediamo e si parte no no ah oh minchia che rischio e va il canalone è passato ah Ah, da... Ah, da... ho 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 Stai la stai tra casa. Non si vuole un cazzo 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 Un cazzo Un cazzo Ce la faccio più Oh No 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 Ah Un cazzo No No Un cazzo Un cazzo Dovrei arrivare al paddock Un cazzo Secondo posto Un cazzo Un cazzo Un cazzo Un cazzo Un cazzo